Non facciamo dichiarazioni? Presidente, solo una domanda, ha parlato con Fontana, ha chiarito poi la questione dell'Europa, è lui il candidato, no? E questa notizia ve la do, mi è stato proposto il Ministro Fultana, sono ben lì di accettare la sua proposta, il Ministro degli Affariati, con la politica di Fremio, grazie.